Siamo qui oggi per protestare proprio perché nonostante le rassicurazioni avute il 29 di aprile crediamo che sia opportuno che il tavolo riguardante la Croce Rossa e il decreto 178 che tutto venga rimodificato affinché si mantenga lo status quo di ente pubblico per la Croce Rossa per i servizi che fa e cercare di mantenere tutti i livelli occupazionali Il decreto è la privatizzazione dell'ente, uno sminuire tutto quello che la Croce Rossa ha fatto negli anni e tutta la sua natura, tutto quello che fa quotidianamente con i propri servizi in tutte le città e proprio per il valore aggiunto che porta alla società Siamo qui oggi unitariamente davanti al Ministero della Salute a manifestare per chiedere alla Ministra Lorenzin di aprire un tavolo di revisione della legge che prevede la privatizzazione di Croce Rossa Noi crediamo che la Croce Rossa possa ancora dare molto al Paese, in particolare per competenze e tradizioni storiche quindi crediamo che queste competenze devono essere salvaguardate così come deve essere salvaguardato ogni singolo posto di lavoro perché i lavoratori della Croce Rossa hanno diritto a mantenere sia i salari che i livelli occupazionali La salvaguardia dei posti di lavoro è importantissima e è importante anche che alcune funzioni che sono già previste dalla legge vengano totalmente affidate a Croce Rossa pubblica e quindi che ci siano nuove funzioni da affidare a Croce Rossa e che queste vadano mantenute pubbliche Questa riforma è inattuabile, questa cosa è stata detta sui tavoli da tutti all'ultima riunione che abbiamo fatto al Ministero tutti i rappresentanti dei Ministeri Economia, Difesa, Sanità, tutti i sindacati hanno detto che questa riforma è inapplicabile È dal 2011 che è stata approvata, siamo al 2015, ancora non hanno emesso nessun decreto attuativo che serva per portare in porto questa riforma Non è attuabile, se ne sono accorti tutti, compreso il Ministro che ce l'ha dichiarato all'ultima riunione che è intervenuta Siamo qui perché i lavoratori di Croce Rossa con il decreto 178 del 2012 che ormai sta arrivando a scadenza nonostante le plurime rinvide alla politica sta arrivando a conclusione In questo momento tutti i lavoratori di Croce Rossa, nessuno escluso, ha certezza sul posto di lavoro soprattutto perché non c'è certezza dell'utilizzo da parte dell'Associazione Croce Rossa italiana E questo è il grande deficit di questo tentativo di riorganizzazione che si è tramutato da riorganizzazione e diventato una privatizzazione Noi a questa privatizzazione non ci siamo assolutamente in quanto questa privatizzazione non porta da nessuna parte Ad oggi ha portato soltanto solo disguidi da ogni parte e ha portato disservirsi in ogni regione d'Italia Perciò questa privatizzazione per noi non va assolutamente bene Ha portato anche lavoratori a lasciare il lavoro dopo 20 anni di servizio di precariato Allora anche questo non va bene assolutamente Ora ancora una volta siamo qui a chiedere al Ministro che cosa loro hanno intenzione di fare perché siamo stati già qui in altre occasioni ma non c'è stata la chiarezza di quello che loro realmente vogliono fare E dobbiamo sottolineare una cosa molto importante Oggi l'Italia sta affrontando un'emergenza veramente incredibile al di sopra delle proprie forze quale è quella dei profughi E noi che possiamo benissimamente avere una delega dal governo dove già in passato abbiamo fatto questi servizi iniziando con i profughi albanesi e altri e abbiamo delle professionalità che nessun altro ente o ministero potrebbe fare al nostro posto Siamo qui a manifestare contro una riforma del 178 che prevede la privatizzazione totale dell'ente di Croce Rosso un ente glorioso che conta 2.500 dipendenti di cui 1.500 le vogliono mandare in mobilità senza garanzie Abbiamo chiesto un'apertura di un tavolo al ministero competente per rivedere questo decreto legge del 178 a salvaguardia del posto pubblico